Buona giornata a tutti, direi dal Consiglio regionale di ieri tanti elementi di soddisfazione. È stato approvato un importante regolamento, che è un nuovo regolamento per gli esercizi di somministrazione, tante nuove opportunità per i nostri esercenti e soprattutto per i bed and breakfast che potranno servire con serenità alla colazione ai loro ospiti. È un motivo di soddisfazione, questo perché era un progetto che era partito nel 2019 quando io ero Assessore della Sanità. Inoltre il Consiglio regionale ha approvato il documento di Economia e Finanza per il prossimo triennio, dove abbiamo arricchito con una serie di ordini del giorno tutta una serie di argomenti che la maggioranza aveva sicuramente dimenticato. Uno di questi è l'infrastruttura viaria, quindi i rapporti tra ANAS e Regione per dare più sicurezza sulle nostre strade, l'allargamento e coinvolgimento nella redazione del piano povertà di tutte le associazioni che operano nel settore sociale e del volontariato per il sostegno alle famiglie e poi ancora una volta e con grande soddisfazione, questo è stato votato in unanimità, abbiamo sollecitato l'impegno da parte del governo a predisporre la provvedimento per il comparto sicurezza, soccorso e sicurezza. Direi che è un percorso sicuramente importante. Infine il Consiglio regionale ha votato l'unanimità con l'energia di tutte le forze politiche direi un ordine del giorno che vanno in una direzione di garantire un futuro al traforo del Monte Bianco anche con delle aperture nuove, una seconda canna piuttosto che altri percorsi che si vogliono intraprendere. Purtroppo devo dire che con rammarico la maggioranza non ha voluto approvare un ordine del giorno legato alla modifica totale della legge 3, la legge quadro sulla casa che è diventata ormai vecchia, è del 2003, alla situazione degli impianti sportivi comunali in tutta la regione e soprattutto a incrementare il numero degli assistenti sociali proprio perché abbiamo ritenuto che le persone, le famiglie hanno bisogno di maggiore conforto, gli assistenti sociali secondo noi sono pochi, abbiamo chiesto di fare una valutazione attenta sul numero di assistenti sociali che realmente possono andare sul territorio e dare delle risposte alle famiglie. In sintesi posso dire che come Forza Italia abbiamo fatto un grande lavoro in questo importante Consiglio regionale. Consiglio regionale. Consiglio regionale. Consiglio regionale. Consiglio regionale. Consiglio regionale. Consiglio regionale.